Il dottor Profumo, sei in sala, pronto. Tratterà la prossima relazione e quindi sulla dislessia evolutiva, espressività del disturbo tra scuola secondaria di primo e secondo grado. Io la lascerei, quindi smetto di far rumore. A proposito dell'intervento precedente. Buongiorno a tutti. Ringrazio per l'invito che mi è stato fatto. Aspetto, eccoci qua. Porto un contributo che è la sintesi di un lavoro che uscirà nei prossimi numeri della rivista della Simpia, nello psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Portanto un contributo tra quelli che forse il mio gruppo del San Paolo di Milano, sul quale è più in grado di esprimere un'esperienza. credo che sia importante comunicarvi che il gruppo del San Paolo di Milano, insieme sicuramente oggi ad altri gruppi italiani, però sicuramente è uno dei gruppi che vede il maggior numero di soggetti che chiedono una visita frequentando per la prima volta, questo è drammatico, la scuola secondaria di secondo grado. noi ne vediamo circa 300 all'anno e il 17% di questi soggetti chiede la visita per la prima volta. Quello che è interessante è anche che il 92% di questi soggetti dopo la diagnosi risulta positivo per disturbi specifici dell'apprendimento. Credo che un primissimo commento che bisognerebbe dire anche rispetto a qualcosa che di recente è drammaticamente uscito sul quotidiano Il Giornale, un paginone intiero che dice che i dislessici qualcuno se li sta inventando, evidentemente invece c'è ancora un gigantesco sommerso. Le secondarie di secondo grado sono sicuramente l'ordine di scuola che maggiormente disconosce le problematiche dei DSA, in fase diagnostica spesso sono utilizzati strumenti diagnostici e fonti normativi ancora molte volte inadeguate perché riferiti alla scuola media. Quindi c'è un reale rischio di falsi negativi in fase diagnostica e poi gli adolescenti molto spesso non vogliono far conoscere il loro problema, rifiutano l'uso degli strumenti compensativi, sicuramente credo che si possa parlare di un'emergenza adolescenti. In questo lavoro ci poniamo due scopi. Uno di vedere rispetto, lo dico subito, a un campione molto ridotto di soggetti, sono undici, studiare l'evoluzione longitudinale del disturbo dislessico tra la scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado. Questo anche un po' riflettendo su alcuni lavori fatti molto bene che vanno a guardare le efficace dell'intervento riabilitativo e che lo misurano anche a livelli adolescenziali che mi sembra che un po' troppo spesso non guardino e non facciano dei confronti con dei gruppi di controllo non trattati perché questo mi sembra che potrebbe dirci qualcosa sull'opportunità e la validità di questo tipo di interventi. La seconda parte del lavoro parte da un precedente lavoro che abbiamo fatto su 67 soggetti dislessici frequentanti le scuole secondarie di secondo grado in cui evidenziavamo una differenza estremamente significativa nelle distanze dalla norma a seconda della qualità del testo, naturalmente tutti con dati normativi riferiti alle scuole superiore, all'equalità del testo che veniva a loro sottoposto e prevalentemente relativamente alla caratteristica lessicale di questi testi e cioè al basso o alto contenuto di parole a bassa frequenza. Questo tipo di effetto era clamoroso e volevamo vedere, seppur con un campione molto piccolo, se era correlato a componenti interne al disturbo di lettura e quindi l'abbiamo correlato con dei componenti legati alla gravità o se era anche correlato a competenze cognitive esterne all'otto di lettura in questo caso abbiamo cercato correlazioni col quoziente intellettivo e le competenze lessicali sia in entrata che in uscita la memoria verbale a breve termine. I soggetti sono 11, sono 7 maschi e 4 femmine che frequentano la seconda e il terzo anno della scuola secondaria di secondo grado e tutti erano stati visti dal nostro servizio precedentemente in seconda o in terza media. Sono 5 che frequentano la seconda anno, 6 che frequentano il terzo anno e le caratteristiche delle scuole sono 4 soggetti di scuola professionale, 1 istituto tecnico e 6 soggetti di licei scientifici. Guardiamo che cosa è emerso dallo studio, quali strumenti abbiamo utilizzato, quelli che il mercato ci mette a disposizione oggi in Italia, poi nella slide successiva farò vedere quali sono i problemi grossi che rispetto alla testistica disponibile in Italia pone fare questo tipo di confronti. Per quanto riguardava la seconda e la terza media abbiamo utilizzato liste che so purtroppo che ormai si chiamano in un altro modo, ma io credo che morirò, non so come, però continuando a chiamarle la lista numero 4 e la lista 5 con i dati normativi delle OS e i brani MT per le corrispondenti classe, sempre dati normativi OS, mentre per quanto riguarda le scuole superiori abbiamo utilizzato la lista numero 4, la lista numero 5 e il brano finale di terza media con i dati normativi portati da Stella e Tintoni in un articolo credo da molti conosciuto e con dati normativi da molti utilizzati. Problemi per questo tipo di confronto? Nessun problema per il confronto sulla rapidità, perché sia la testistica relativa alla scuola media, sia la testistica relativa alle scuole superiori hanno dei dati normativi relativi al numero totale di secondi impiegato a leggerlo, il che consente di fare dei confronti. Impossibile fare i confronti sull'aspetto invece di correttezza, perché la metodologia prevista per la scuola media prevede il calcolo soltanto degli errori e qua credo che ci sia davvero un deficit storico in questo tipo di metodologia, mentre invece quelli delle superiori giustamente prevede il calcolo sia degli errori che le autocorrezioni, che sono frequentissime, soprattutto nei più adulti. Più complesso è decidere se si è abilitati a confrontare le rapidità e il numero di errori di testi diversi. Qua non mi dilungo, ma credo che ci sia una parte interessante della letteratura, soprattutto quella fornita dal gruppo IRIPA, che forse avrò modo di citare dopo, che sembra consentirci di confrontare questi testi, seppur sapendo che sono testi diversi. Dunque, confronto media e superiore con i nostri 11 soggetti dislessici in velocità. Come vedete, dunque, vedete che c'è un incremento medio di 1,40 sillabe al secondo nel passaggio tra le medie e le superiori. Questo è interessante, andiamo a vedere che cosa succede per quanto riguarda invece la distanza dalla media, quindi in punti Z, anche in punti Z, c'è un incremento significativo. Passano, l'incremento è di circa 2,07 deviazioni standard. Credo che si possa concludere che nella lettura delle liste di parole, tutti i nostri soggetti aumentano la rapidità e anche tutti i soggetti si avvicinano alla norma. Per quanto riguarda il brano, tutti i soggetti aumentano la loro velocità. Però, se vi ricordate un attimo il dato di incremento della lettura della lista di parole, l'incremento nella lista di parole è maggiore, significativamente maggiore, dell'incremento invece nella lettura del brano, cosa che subito dopo commenterò. E per quanto riguarda la distanza dalla media, sono 9 su 11 i soggetti che le incrementano. Due soggetti, seppur di poco, si allontanano leggermente dalla norma. Credo che si possa dire quindi che nella lettura del brano tutti i soggetti aumentano la rapidità e che 9 soggetti si avvicinano alla norma. Conclusione. Sostanziale aumento di competenze e diminuzione dell'intensità del disturbo nel passaggio dalle medie alle superiori. Io credo che questo sia un dato che speriamo di poter, come dire, portare con un contributo sicuramente maggiore. Avete visto che abbiamo fatto uno studio su 67 soggetti, questa volta dovendo guardare un loccinurinale. Ne avevamo soltanto 11 a disposizione, ne avremo di più, però credo che sia un suggerimento di riflessione a tutti i lavori che vengono fatti che testimoniano di un incremento di rapidità e di competenze a seguito di interventi riabilitativi. Questi lavori sono molto interessanti ma non possono portarci dei dati sufficientemente convincenti se non sono paragonati a gruppi di controllo non trattati perché evidentemente c'è, indipendentemente, nessuno di questi soggetti è stato trattato, un'evoluzione spontanea del disturbo dei soggetti dislessici italiani. Interessante, la velocità di lettura del brano è sempre superiore a quella della lettura delle parole. Questo è un dato che tutti conosciamo, quindi i soggetti dislessici come i soggetti normali hanno un effetto vantaggio del contesto, ma, e qua farò una piccola osservazione interessante, gli incrementi di rapidità sono maggiori nelle parole rispetto a quanto succede nel brano. Questo non è quello che soggettano i soggetti normali. Questo è un lavoro sul quale credo che noi tutti in Italia lavoriamo, perché Stella e Tintoni del 2007 hanno portato a dei dati interessanti che hanno fatto fare un salto in avanti nell'attrezzatura testistica per fare la diagnosi in età adolescente, ma quei dati testimoniano che l'incremento nel passaggio dalla media al terzo anno delle superiori, per quanto riguarda la lettura delle parole, lo vedete scritto là in fondo, è di 0,63, defiazioni standard, mentre invece, in velocità scusate, mentre invece per quanto riguarda la lettura delle parole, del brano è di 1,23. Giustamente, gli autori di questo lavoro notano che, visto che i normolettori incrementano l'MT più di quanto incrementano, potrebbe esserci un effetto soffitto per le parole e questo incremento possa essere fortemente dovuto alla quantità di esercizio quotidiano che i soggetti studianti fanno e che sicuramente, tra quanto frequentavano le medie e quanto confrontano, sono passati almeno tre anni e in quei tre anni si è letto, eccetera, eccetera. Noi aggiungeremo, aiuto, noi aggiungeremo una considerazione di questo genere a cui teniamo molto, quando i livelli di decodifica della parola hanno raggiunto, e questo succede nei normolettori, prestissimo, elevatissimi livelli di automatizzazione, quindi vuol dire che l'attenzione non è più assolutamente necessaria per la decodifica, c'è tutto a disposizione del contesto e che quindi questo suggerisca perché possa ulteriormente esserci un significativo vantaggio del contesto, cosa che non succede invece per quanto riguarda i soggetti dislessici. E credo che da una parte sicuramente lo scarso esercizio e senza problemi, ma possiamo dire che l'uso delle misure dispensative e compensativi, quando grazie al cielo vengono usate, sicuramente non incrementa l'esercizio della lettura, ma questo perché è intrinseco a come affrontare e risolvere il problema della dislessia. E che ci sia sicuramente ancora una volta in una situazione in cui la caratteristica del disturbo è di non consentire l'automatizzazione della procedura, e quindi alla procedura bisogna porre attenzione e che quando si pone attenzione a una procedura di livello basso ne rimane meno per porre attenzione a considerazioni di tipo high, come sono le caratteristiche contestuali. Nel secondo lavoro abbiamo cercato di chiederci se le difficoltà significativissime che i nostri 67 soggetti studiati nei primi lavori incontravano in testi ricchi di parole a bassa frequenza e con complessità di enunciato, rispetto a testi meno impegnativi, dipendessero, come ho detto prima, da componenti interne al disturbo, cosa estremamente probabile, ma potessero dipendere anche da componenti esterne al disturbo, l'intelligenza, per esempio l'efficienza lessicale verbale in entrata e in uscita e una delle componenti che è maggiormente studiata come contributo alle difficoltà di lettura, la memoria a breve verbale. Cosa succede? Io devo ricordarvi una cosa interessantissima, perché qua il problema a cui noi teniamo molto a sottolineare va nella direzione di quali strumenti sono più sensibili per fare diagnosi di dislessia in età adolescente, che credo sia un problema che ci riguarda tutto. Guardiamo un attimo, prima di tutto, brevemente, che cosa succede in letteratura. Bene, c'è questo lavoro interessantissimo, più volte citato, ve lo dico rapidamente, dell'Aeripa del 2004, in cui a tutti i bambini, dalla seconda elementare alla terza media, venivano somministrate tutte le prove MT. Bene, i bambini di seconda elementare leggono alla stessa velocità il brano di seconda e il brano di terza media. I ragazzi di terza media leggono alla stessa velocità il brano di seconda media e il brano di seconda elementare e quello di terza media, naturalmente, con un mental power e con una rapidità di processamento maggiore, che è più che crompensibile. E un altro dato interessante, perché è quello che riguarda il lavoro che vi voglio presentare, per quanto riguarda i dati normativi disponibili oggi in Italia, e quindi i dati di Stella e Tentoni relativamente al testo di fine di terza media, misurati in seconda e terza superiore. e i dati del gruppo di Zoccolotti, del Santa Lucia di Roma, questo brano di Calvino, Funghi, eccetera, eccetera, che molti conoscono, vedete che i normolettori leggono esattamente alla stessa velocità in secondi sillaba, ma cosa ancora più interessante per il confronto tra queste due testistiche che fanno sicuramente riferimento da gruppi di controllo diversi, la deviazione standard strettissima, ma è perfettamente identica. Cosa succede al nostro campione? Al nostro campione succede questo, che come vedete, essendo in quel celestino più chiaro i tempi, sì, credo no, e sono le deviazioni standard, rapidità Z, vedete che la distanza, usando i dati normativi di cui ho parlato prima, è significativissima. La media di 67 soggetti è di 6,48 deviazioni standard sotto la media, molto inferiore quella per quanto riguarda il brano MT, e non commento perché non ho tempo, questa differenza è clamorosamente diversa per quanto riguarda i tempi, non lo è, lo è molto meno, quasi nulla, per quanto riguarda la questione della correttezza. Cosa succede ai nostri 11 soggetti? succede esattamente la stessa cosa, non era prevedibile che succedesse diversamente, ma vedete che la media delle differenze in punti Z, tra quando misuriamo la loro competenza leggendo funghi, e quando misuriamo la loro competenza leggendo il brano finale della terza media MT, è di 4,40 deviazioni standard. vediamo che cosa succede quando cerchiamo di chiederci, e ho finito, se queste differenze sono correlate con competenze di tipo cognitivo, e o sono correlate con caratteristiche del disturbo. Bene, qua è stato applicato un test di Sperman-Row, in cui le differenze fra funghi e l'MT sono state confrontate con la WISH, con il lessico in entrata, con il lessico in uscita, e come vedete nulla è significativo. Interessante questo. Perché? Perché invece è molto interessante, di nuovo applicando un test di Sperman-Row, per quanto riguarda la ricerca di correlazioni tra queste differenze, è due importanti caratteristiche del lato di lettura, che misuriamo sempre facendo riferimento a modelli due vie, facendogli leggere la lista di parole numero 4 e la lista di non parole numero 5, si vede invece che c'è una correlazione significativa per quanto riguarda la lettura delle liste di non parole. Credo che si possa concludere che l'espressività longitudinale della dislessia evolutiva dei soggetti dislessi cittadiani sembra maggiormente caratterizzata da difficoltà negli accessi fonologici. Però, 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 i testi letti alle superiori contengono un numero elevato di parole a bassa frequenza e di lessico specialistico. Quindi credo che mantenere il più possibile la qualità della prova che supponiamo agli adolescenti vicino alle caratteristiche dei testi che vengono proposti in quell'ordine di scuola sia estremamente importante. Quindi l'invito a essere attenti e di valutare quali possono essere le prove più sensibili per mettere in evidenza l'intensità del disturbo. Perché? Perché il rischio, in effetti, di farsi negativi se no diventa abbastanza elevato. Ultima considerazione. Quello che vediamo tutti e che ci preoccupa molto è che anche disturbi lievi, quindi che corrispondono a quanto di evolutivo abbiamo già da tempo imparato relativamente agli sviluppi longitudinali della dislessia dei soggetti che legano sistemi trasparenti, se confrontato con le caratteristiche dei testi che vengono sottoposti, è piuttosto preoccupante perché quello che noi vediamo e che tutti quelli che guardano adolescenti vedono è che disturbi anche lievi pongono dei problemi molto significativi. Anzi, mi piace dire che dopo l'incontro con i genitori, dopo l'incontro con la paziente o con il paziente, molto spesso, da quel che ci raccontano, uno si mette un po' le mani del cappello e gli dice Dio mio, adesso che cosa andrò a vedere? E non è vero. Non è, a volte è vero, altre non è vero. Cioè, nel senso che c'è proprio una discrepanza interessante per l'operatore che interviene tra quanto ascolta, che è indubitabilmente vero, e quello che poi riscontra nelle prove somministrate. Dobbiamo aumentare gli sforzi per migliorare le competenze nella scuola e nella sanità. Credo che ho finito dicendo che bisogna fare dei sforzi enormi. C'è un ritardo enorme nella scuola secondaria di secondo grado. Io non posso... Noi non siamo più capaci di tollerare che una ragazza brillante che fa il liceo classico che va bene in italiano, che va bene in storia, che va bene in geografia, siccome quando fai il compito di matematica non riesce mai a svolgere tutte le prove che gli hanno dato perché ha un problema di calcolo che chiaramente lei aumenta perché le fa un po' FIFA e quindi ogni volta sia bocciata. Dobbiamo dire no. E un'altra cosa importantissima poi ne dico ancora un altro davvero finito le strutture di neuropsichiatria infantile sono oberate di compiti e di quantità di lavoro. Però c'è un dato. Chi si occupa delle componenti emotive di un'età che indipendentemente della dislessia problematiche ne pone ma quando si aggiunge un disturbo quando si aggiunge un difetto diventano spesso molto molto importanti. E finisco però dicendo che e faccio un piccolo osservazione come membro dell'Associazione Italiana di Dessia di buon auspicio sta secondo me succedendo qualcosa e vi dico brevemente da dove lo vedo. In Lombardia che non è la prima regione d'Italia manco per niente certo c'è una sezione molto efficiente a Milano. Se andiamo a fare una serata di informazioni in uno dei comuni della provincia succede un evento quasi ridicolo che in un'enorme sala ci sono 200 persone e fuori ci sono cinque nerboruti vigili che tengono fuori le altre 213 persone in bestialite che non riescono ad entrare. E l'altra sera in un altro piccolo comune della provincia di Milano c'erano 500 persone. Bravura della sezione. attivisti in gamba ma non basta. E' bello. Sta cambiando qualcosa. Sta cambiando qualcosa. C'è una consapevolezza dell'esistenza del problema e quindi una domanda di conoscere di più gigantesca. E noi siamo felici di sapere che tutto questo dipende in parte da noi per essere modesti e che però a questa domanda dobbiamo riuscire a dare sempre più una risposta. Grazie. Dottor Profumo per la scienza e per la passione. Grazie. Grazie.